Devo essere sincero, di Sorrentino prima di Partenope avevo visto solamente due film. È stata la mano di Dio, al tempo quando è uscito su Netflix, e poi qualche settimana dopo quella visione ho recuperato anche La Grande Bellezza, film che ha vinto l'Oscar, forse il film per cui Sorrentino è più noto anche all'estero. Ecco, il primo mi era abbastanza piaciuto nonostante non lo reputassi il grande capolavoro che molti paventavano, soprattutto qui in Italia, mentre il secondo mi ha fatto altamente cacare. E ricordo quasi esclusivamente questo della Grande Bellezza, magari dovrei anche riguardarlo, non lo so, dovrei riguardare anche è stata la mano di Dio per possibilmente cambiare idea o riconfermare il mio giudizio verso quel film, e in generale credo che dovrei guardare anche il resto della filmografia di Sorrentino perché ci sono alcuni film che effettivamente mi interessano, il Divo, l'Oro, avendo quindi solo due visioni dalla mia, una positiva all'altra molto negativa, per Partenope c'era un 50 e un 50 fondamentalmente, quindi poteva piacermi oppure no, dipendeva tutto da Sorrentino, e a quanto pare Sorrentino ha deciso di usare il 50% sbagliato, perché per quanto mi riguarda Partenope è un film davvero imbarazzante, e forse dire imbarazzante è poco. L'unica cosa che avevo visto di Partenope prima di andare in sala era il poster, basta, nient'altro, non sapevo di cosa parlasse il film, non sapevo neanche quasi il cast, sapevo solo di Gary Oldman e basta, e quindi non avevo visto neanche il trailer e col senno di poi forse avrei dovuto vederlo, non lo so. Quanto meno con il fatto del 50 e 50 non mi sono fatto delle aspettative altissime, cosa che invece alcune persone con cui sono andato a vederlo avevano, per poi rimanere inesorabilmente e giustamente delusi, al massimo. Partendo dal fatto che il film è pesato, dura due ore e dieci più o meno, è una durata un po' troppo lunga per la storia semplice e anche molto striminzita che vorrebbe raccontare. Ci sono tantissimi elementi che vengono effettivamente inseriti per riempire queste due ore, ma la confusione regna sovrana in questo Partenope. È un film che cerca di raccontare qualcosa ma nello stesso tempo racconta altre 3-4 cose che confondono il tutto e effettivamente io mi sono sentito un po' mitragliato da queste informazioni di cui in realtà non mi fregava moltissimo. Tra l'altro il film cambia registro almeno tre volte, sembra di vedere tre film diversi arrivati a un certo punto. L'inizio, la parte centrale e la fine sembrano letteralmente tre film separati. Unico filo conduttore appunto gli attori e alcune cose che si vedono perché questo film ha al centro la sessualità, che secondo me in questo caso scade molte volte sul volgare e non viene utilizzato quell'erotismo anche un po' delicato e studiato che magari ci si può aspettare da un film del genere. Partenope inoltre mi è sembrato un altro film italiano per l'America. Come esattamente La Grande Bellezza credo che questo film sia stato realizzato proprio per essere candidato o vincere un altro Oscar. Ci sono davvero tutti gli elementi che l'americano medio, che si sente un po' colto solo perché sa che l'Italia e la Spagna sono due nazioni totalmente diverse, vuole vedere in un film italiano. L'Italia anni 60, il mare, la mala vita, mancava il gelato e la pizza, quello sì però ci siamo andati vicino. Le donne e qui partenope un po' la femme fatale, nonostante sia anche la protagonista, non è quella femme fatale da noir, trae in inganno il protagonista, no è la femme fatale da protagonista. Un po' come la Maxine di Mia Gotte, tra l'altro io questa attrice protagonista di cui non ricordo il nome, mi dispiace. La identifico un po' come Mia Gotte, c'è qualche elemento fisionomico che me l'ha ricordata, mi ha ricordato l'attrice della trilogia di X, poi però ho chiesto ai miei amici qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no, magari fatemelo sapere con un commento se mi sono immaginato questa somiglianza, però assolutamente questo film non si può paragonare a nessuno della trilogia di Ty West. In ogni caso credo che Sorrentino punti di nuovo alla candidatura e forse alla vincita dell'Oscar, ma vedremo appunto nella prossima stagione dei premi. Ora, a parte questo io ho capito cosa il film volesse in qualche modo rappresentare, voleva anche dar modo di farci vedere un po' la libertà sessuale della donna, soprattutto in quel periodo, negli anni 60, 60, 70 siamo comunque lì, e questa è in realtà solo una piccola parte di quello che il film vuole raccontare, poi ci sono tantissime altre critiche che vengono messe tutte alla rinfusa in quel calderone di insalata che è pieno, veramente pieno, ci sono tantissime cose, anche dei pezzi di vetro che fanno male ai denti, però è tutto poco condito, non c'è olio, non c'è sale, è qualcosa di veramente insipido. Sorrentino non voleva parlare solamente della libertà sessuale di Partenope, che è appunto la protagonista, ma voleva rappresentare naturalmente ancora una volta la sua amata Napoli in diversi modi, ripeto che ha rappresentato quella Napoli che gli americani conoscono, è Partenope chiamandosi anche in questo modo ovviamente la rappresentazione di Napoli, è almeno nell'obiettivo principale credo la reincarnazione di Napoli, come poi sul finire alcuni altri personaggi, soprattutto uno sono la reincarnazione di altri elementi, questa cosa effettivamente l'avrei voluta spiegata in modo più sensato, perché sembra un po' un elemento fuori dal contesto, arrivati soprattutto a quel punto del film, tanto che sfortunatamente, perché comunque stiamo parlando di una certa cosa, è scattata una risata un po' imbarazzata in sala, ma il problema è che Partenope non vuole parlare solamente di questo, vuole parlare anche della corruzione in diversi ambiti, dell'amore non solo romantico che trascende qualsiasi altra cosa, l'amore che due persone possono provare, due o più persone possono provare anche solo dopo due domande di esame. Ripeto che Partenope Sorrentino voleva parlare di tutto questo, ma lo fa male, o almeno così mi è sembrato, tutto confuso, tanti elementi messi lì e non approfonditi. Inoltre Partenope, il personaggio intendo, non è neanche tutto sto granché, è un'esagerazione, un'esasperazione della Napoli benestante che alla fine tutto può. Però in conclusione a me è risultata un po' come una ninfomane con più personalità, più vite e che avesse bisogno di tanto tanto aiuto da persone brave. Per me non è assolutamente questa la fan fatal con una propria libertà. L'attrice non è stata neanche così male, sì, poteva fare sicuramente di più, in alcuni frangenti soprattutto, però capisco la difficoltà con un personaggio scritto così che ha delle battute imbarazzanti, ed è veramente poco dire imbarazzanti. Il 90% dei personaggi va avanti per frasi fatte, quando dico frasi fatte intendo proprio che molti vanno avanti per proverbi. Alcune battute mi hanno in qualche modo anche fatto rimpiangere linee di dialogo di Napoleon, di Ridley Scott, e ce ne vuole. Molti dei personaggi tra l'altro sono anonimi e totalmente piatti, anche forse in qualche modo per far risaltare part'enope. Per esempio il personaggio di Gary Oldman, carino, dai, Gary Oldman è stato anche veramente bravo, soprattutto nella sua scena madre, diciamo, però a che è servito? Chiedo a chi ovviamente ha visto il film, a che è servito quel personaggio? Per part'enope come personaggio e per part'enope come film. L'unico personaggio che effettivamente mi è piaciuto un po' di più è forse il personaggio del professore, quello universitario, che effettivamente ha qualcosa da dire nella maggior parte delle sue scene, l'antropologia e tutto quel fatto mi è anche piaciuto. Il modo in cui si conclude quella parte del film un po' meno, ha a che fare ovviamente con quella rappresentazione di un altro elemento, di Napoli o dell'Italia in generale, che non ho apprezzato al 100% inserito nella dinamica universitaria di part'enope, ovvero alla fine la vita diurna del personaggio, che poi in realtà ci sono diverse parti nel film che vengono inserite solo per, boh, avere più minutaggio, raccontare più cose, far sembrare che il film abbia più cose da raccontare, magari anche con il fatto del cinema, un po' si rifà naturalmente, è stata la mano di Dio, però tutto quel momento in cui viene inserita la storia del cinema, non lo so, mi è sembrato veramente uno spezzone a parte che è stato inserito non so per quale motivo. Alcune sequenze sono veramente di un imbarazzo assurdo e non sto scherzando, capisco anche le critiche di alcune di queste, come quella di San Gennaro, di Tesorone, che però è portata veramente per le lunghe in modo pacchiano, che può essere anche un'altra critica all'interno del film, ma ancora un'altra. Quella parte è stata esagerata, non parliamo poi della fusione, chi ha visto il film sa che cos'è la fusione, anche lì ovviamente c'è la critica, abbastanza comprensibile, però c'è modo e modo per presentare quella critica. Tecnicamente poi alla fine non è neanche male, Sorrentino è un po' sopravvalutato sotto questo punto di vista, almeno per quel che ho visto, non è che abbia tutta questa grande cifra stilistica, se non Napoli, le donne, qualcosina, forse anche le pubblicità dei profumi, perché anche in partenope ci sono dei momenti che ho detto ok, Giorgio Armani, anzi dato che tra i produttori del film tra l'altro 10 miliardi di case di produzione all'inizio, prima di partire, Saint Laurent, molte parti sembravano veramente prese da una pubblicità di qualcosa. Poi ci sono un paio di inquadrature green screen e se non sono green screen non capisco perché ci sia stata questa sensazione, per esempio una con il dito e le stelle, o ancora un'altra che si fonde un po' con le inquadrature in stile Dolce Gabbana, un tizio a petto nudo naturalmente perché quando passa partenope, un po' come Marlena di Tornatore, tutti si girano a guardarla perché tutti si girano a guardare Napoli, che è quello il senso, però tutti si girano a guardare partenope e nella maggior parte dei casi sono dei tizi fisicati a petto nudo sulla spiaggia, sugli scogli, ecco c'è un tizio sullo scoglio e dietro c'è Napoli, brutta quell'inquadratura, molto brutta, anche perché lui sembra totalmente distaccato dallo sfondo, non sembra esserci profondità proprio perché sembra un green screen e se non è un green screen voglio capire perché lo sembra. In conclusione devo dire che ho odiato le sigarette. Ok, ho fatto un siparietto verso questa parte finale del video in cui fumo una sigaretta finta perché io non fumo, questa è carta normale, ma penso comunque si sia capito. Questo film ha tante sigarette, non capisco per quale motivo, in ogni singola inquadratura un personaggio accende una sigaretta, se nelle stesse inquadrature ci sono tre personaggi, quei tre personaggi hanno una sigaretta, ad un certo punto un personaggio ha due sigarette in bocca e non capisco, mi ha fatto veramente ridere, rivedrei il film? Non lo rivedrei assolutamente, rivedrei il film però per contare le sigarette che vengono presentate in scena, anche in momenti totalmente casuali e questa è la cosa divertente, tantissime sigarette senza motivo. A me la sigaretta al cinema piace, è molto scenografica, è comunque un elemento molto importante del cinema mondiale, ma qui direi che è veramente abusata e non capisco il motivo, veramente mi sono messo a ridere praticamente sempre, ogni volta che vedo una sigaretta ridevo perché veniva accesa, veniva fumata in momenti anche in no sense. Vorrei una risposta da Sorrentino, per quale motivo è stata inserita così tanta nicotina in questo film? Un'altra critica? Al cancro che i personaggi, non dico gli attori, avranno tipo andando avanti con le loro vite, visto che fumano come delle ciminiere? Per chiudere comunque vorrei dire anche qualcosina di positivo, ci sono delle battute, c'è dell'ironia che comunque è riuscita a farmi ridere, quindi sotto questo punto di vista funziona, voglio dargliene un po' atto, dopo aver dato un giudizio quasi completamente negativo, dopo la visione ho sentito praticamente quasi tutti parlare male di questo film, quindi non sono l'unico almeno a cui non è piaciuto, tra i miei amici con cui ero a vedere il film la pensiamo allo stesso modo, chi più chi meno, qualcuno è riuscito a salvare qualche altra parte che io non salverei né ora né mai, altri invece lo odiano completamente, soprattutto quelli che appunto si erano fatti delle aspettative, però l'opinione generale che ho percepito dopo essere uscito dalla sala è che questo film è veramente pessimo e la penso assolutamente così, secondo me è uno dei peggiori film del 2024, derivativo anche, non è assolutamente un problema essere derivativi sì, ma qui ho visto The Dreamers, ho visto persino Challengers di Guadagnino, non penso che Sorrentino abbia bisogno di citare Guadagnino, però c'è molto quella dinamica, più presente sicuramente in questo modo in The Dreamers, ma tant'è. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questa recensione senza spoiler di Partenope, perché comunque per ora è uscito solo in anteprima per qualche giorno, non so fino a quando, comunque non è l'uscita ufficiale che avverrà ad ottobre, se non sbaglio il 24, quindi manca più di un mese, io non voglio assolutamente invitarvi a non guardare il film, se vi interessava il film andate a vederlo assolutamente, perché magari poi vi potrebbe anche piacere tanto, quindi potreste pentirvene, non so come questo film potrebbe piacere tanto, non so per quale motivo sia piaciuto a Cannes, anche ad alcuni italiani, ma ragazzi vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok e Letterboxd, dove ho scritto la mini recensione ieri notte prima di registrare questo video oggi, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!